Croma cose, fiamma negli occhi, fiamma negli occhi alle 8 e 20 minuti, come le fiamme che mi sono venute nei miei occhi quando ho visto entrare la nostra ospite di oggi, Deborah Villa, buongiorno! Ciao, buongiorno! Fabio, buongiorno Milano, ma insomma, fiamme negli occhi spero di no, insomma, non è proprio di buon auspicio. Dici, no, perché mi sono accesa la fiamma quando vi ho scritto quel quale. Metaforicamente? Metaforicamente, sì, 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 no, non era una congiuntivite latente, no, 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 anche perché credo che su congiuntiviti no, non puoi intervenire. No. Invece su esaurimenti globali, sì. Esaurimenti sono abbastanza esperta, sì, ce la posso fare. Perché, diciamo questo, perché sei in scena proprio in questi giorni, questa sera lo sarai a Legnano, con il tuo spettacolo Tilt, giusto? Tilt, esaurimento globale, per l'appunto. Ok, siamo tutti esauriti. Tutti esauriti, beh, insomma, ma il comune è mezzo gaudo, direi. Facendo così, insomma, ci pesa di meno, dividendoci. Direi, direi, assolutamente. Sei stata in scena a Milano la scorsa settimana, più o meno, come è andata? Bene, bene, insomma, Milano è proprio casa mia. Tra l'altro Lirico è un teatro accoglientissimo. Roberta Frezzato, Daniele Sabbioni, che sono direttrice responsabile, veramente sono persone stupende, stupende. Infatti sono molto contenta. Bene, bene, e chi per caso avesse fatto questo grandissimo peccato di essersi perso questo spettacolo, questa sera invece, a Legnano, giusto? Sold out, c'è ancora qualche posto? No, no, qualche posto c'è, qualche posto c'è. Io faccio un applauso a Debra Villa perché non ha detto sold out. Sai che di solito tutti dicono, no, guarda, mi spiace. No, ma io mica li faccio sold out, quando li faccio me la tiro, capito? È quello il discorso. Perché altri artisti vendono due biglietti, al terzo biglietto dicono, ragazzi, veloci perché c'è sold out. No, no, assolutamente. Quindi anzi, coprite gli ultimi posti che qui c'è bisogno. È uno spettacolo interessante quello di Tilt perché tu inizi con una sorta di gruppo di mutuo aiuto. In un certo senso questo mi dicevi così, no? Cosa viene fuori da quel momento? Beh, tanta roba bella. Cioè vengono tutti fuori gli esaurimenti delle persone, tutto quello che li esaurisce. Ti dico solo quello che è uscito fuori la prima sera a Milano. Ditemi forza, cosa è che vi esaurisce? Cioè una signora ha detto, grattugiare il parmigiano. Ed è la madonna signora, quanto ne grattugia. Diciamo che se torniamo a grattugiare il parmigiano, la strada è lunga. La strada è lunghissima, è lunghissima. Mi aspettavo qualcuno che diceva, il parcheggio, qualcosa del genere. Per esempio, per esempio, certo. Un grande classico quello. Un classicismo, un traffico. Un classicismo, mariti, mogli. Però è interessante perché tu l'hai chiamato Tilt. Cioè il titolo è Tilt esaurimento globale. Quindi se io ti sgigotto, mi va in tilt come il flipper? Assolutamente, andrò in tilt anche durante lo spettacolo. E poi faremo un viaggio all'interno del mio cervello. Che è un viaggio che dura un minuto e mezzo. Cioè, c'è poco da vedere. Quindi dai anche dei caschetti e delle cinture che entrano. Insomma, è un viaggio pericoloso. Pericolosissimo. Però sicuramente non ci si annoia, ecco. No, di sicuro no. È un bello spettacolo divertente. Adesso poi non è che voglio tirare acqua al mio mulino. Però insomma, non è che posso dire è brutto. Se no, l'avrei rifatto. E lì un applauso partiva. Se dicevi, guardate, venite allo spettacolo. E' bruttissimo, esatto. Però fa ridere, no. No, no. Invece è pure bello. E' pure carino. E' pure carino. Fa ridere. Fa ridere. E quindi insomma, cosa c'è di meglio contro il nostro esaurimento globale che faccia una bella risata questa sera appunto al Teatro di Legnano. Allora adesso Deborah, io ti sequestro ancora per un paio di canzoni e dopo ci ritriamo qui perché entriamo bene nello specifico. Ci racconti bene anche come è nata la genesi di questo spettacolo che appunto è una genesi. E poi vedi, ride. C'è questo che me... E questa sarà la domanda. Cioè, come si fa a ridere su questa cosa? Ce lo insegna Deborah Villa. Ciao, 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 Marshmello. Grazie mille per questo capolavoro assoluto. Ma siamo qui invece con Deborah Villa che invece di capolavori ci deve raccontare perché stiamo parlando del suo spettacolo Tilt Esaurimento Globale questa sera in scena in quelle di Legnano. Non è più una prorogativa solo di alcuni. Siamo tutti esauriti. Siamo tutti esauriti e questa è una cosa che dicono gli scienziati. Non è che lo dico io. Io lo rilevo da... Come si dice? L'ho letto su Focus. Esatto. No, io l'ho letto su TikTok. L'ho letto su TikTok. Esatto. No, però è vero, siamo tutti messi male, ragazzi. Perché? Vabbè, ma perché ci prendono in giro dall'alto. Ok. Le difficoltà dal basso e in mezzo. Ci siamo noi. E non dico dove vanno a finire le fregature. Ecco, però, insomma, ce lo possiamo immaginare. Detto questo, però, io faccio di necessità virtù. Sono una comica. Vedo sempre il lato divertente. Quanto meno è una bellissima via di uscita, insomma, la risata, no? Cioè, ridere delle magagne. Eh, infatti, come si può ridere di questa cosa? Si può, si può, assolutamente. Se non avessi avuto questa dote di poter ridere delle mie magagne, credo che mi sarei suicidata a 15 anni. Cioè, sono di più oltello. Sono quello che sono, che non nasco modella. In un mondo spietato, dove per essere donna la bellezza è tutto. Invece ho tirato fuori un po' di cazzimma, come direbbero a Napoli. Un po' di grinta. Mi piace che tra le note dolenti c'è il Nascere a Pioltello. Eh beh, Nascere a Pioltello è tanta roba. Lo nomino anche nello spettacolo. Io non passo spettacolo senza nominare Pioltello. Ah, vedi, vedi. È il mio paese. È il mio bronzo. Rivendichiamo una cosa. Altro che Gali, che dice sempre Baggio. Bello, mettiti in coda. Gali, che qua c'è Pioltello, che veramente... Pioltello tira fuori il coltello, si diceva una volta. Ah, capito. Pioltello, ti fa coltello? Questa non la sapevo. Sapevo Barona Padrona, sapevo della Barona, ma non sapevo qua di Pioltello. Diciamo appunto che bisogna ridere per riuscire a uscirne da questa pazzia globale in realtà, in cui siamo dentro, non siamo solo noi matti, non so come dire, siamo proprio inseriti dentro. Però diciamo appunto, come nasce la genesi di questo tilt? Allora, seria a seria per un secondo. Allora, dopo il secondo lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa, io ho anche la fortuna di vivere in super provincia, vivo a Gessate, quindi anche con un giardinetto, vedevo i campi, quindi molto fortunata rispetto a tante persone costrette in casa, però sono andata un po' giù di testa, come tutti. Perché non vedevo più il futuro, insomma, eravamo dentro e non si sapeva che cosa sarebbe stato di noi. Ho detto, aiuto, e lì insomma un po' ho iniziato ad andare in down, diciamo una deriva depressiva, non voglio esagerare perché ci sono persone che hanno problemi molto più seri di questi, però tra l'altro quando poi hanno riaperto, c'è stata finalmente la possibilità di tornare sul palco, mi sono domandata, ma io vado sul palco a fare la scema con la gente che sta male, ha perso cari, attività, lavoro. E liberi tutti, ha un po' poi sconvolto chi magari ha avuto della risata. Sì, io ho detto, io vado lì e rifaccio ridere, no? Allora ho scoperto, però, anzi ho riscoperto le capacità taumaturgiche curative della risata, perché anche questo è un dato di fatto oggettivo, quindi fa bene veramente ai polmoni, alla circolazione, al cuore, al metabolismo, insomma, sul metabolismo avrei da ridire, però insomma, ecco, diciamo su tutto il resto. Sei informissimo. Ho perso tipo 20 chili, ecco, ero arrivata a 80, e quindi insomma, per dire, ho detto, beh, però insomma, quello che faccio non è proprio da sciocchi, e poi ho capito che non ero l'unica, che c'era bisogno, tanti mi chiedevano, meno male, mi hai fatto passare un'ora di, capito, in relax, mi hai fatto dimenticare i miei guai, insomma, ho capito che era anche umanamente importante questa cosa. E da lì mi sono interrogata, ma perché siamo arrivati a sto punto? Ecco. E ce n'è. E venite a teatro per scoprire questo. Esatto, sì. L'interessante è che appunto, no, c'è stazione abbastanza lunga, quindi, questo spettacolo. Lunga, lunga, sì, beh, nel frattempo ho fatto quasi due anni di laboratorio. Viene fatte altre cose, no? Sì, ho fatto un laboratorio che si chiamava Terapia di Gruppo. Ah, ecco, ecco, ecco. Funzionale proprio al mio star bene, ma allo star bene del pubblico, tanto che a un certo punto c'era un manipolo di artisti, un'armata brancaleone che mi seguiva, e sono Luce Pellicani, Max Samaritani, Amedeo Abate, Yuri Primavera e, madonna mia, Andrea Nani. E praticamente però a un certo punto facevano salire anche il pubblico sul paico, quindi noi li facevamo divertire. Poi chi voleva, guarda, è uscito, Fabio, tu non hai idea della follia dilagante delle persone. Ma infatti, ma le persone riescono ancora a stupirti dopo questi anni che le incontri? Sì, sì, assolutamente. Dai, dacci qualche... Beh, mi è rimasto nel cuore Renato. Devo dire che quella che è in sbattimento perché deve grattugiare il parmigiano, già quella, devo dire. Quella poverina, insomma, siamo tutti con lei, insomma, solidarietà. Stiamo facendo partire un fondo. Un crowdfunding. Esatto, un crowdfunding. Un SMS solidale per il parmigiano. Esatto, per una grattugia più grande. No, però questo Renato, che è una persona veramente che ha girato il mondo, è un poeta inconsapevole, parla un gramlo di lingue che mi sembra cattivico. Ora, io non so se tu te lo ricordi, quello che non metteva le finali, e parla così. E dice le cose, sale sul palco. E dice, allora, adesso ti dico le mie... Allora, sai perché il caffè non parla? E tu dici, perché? Perché non si è ancora espresso. Ah, io voglio morire. Così lo devi tenere lì. Io voglio morire, ma infatti c'era sempre Renato a grande richiesta. Anzi, Renato, ti vogliamo qua. Assolutamente. Vogliamo Renato qui, perché un personaggio così non può non passare da Good Morning Milano, devo dire. E quindi sì. Interessante appunto questa idea anche della terapia di gruppo che avevi fatto appunto questo laboratorio, molto bello. È servita a noi comici, ma anche tanto al pubblico. E poi veramente salivano a raccontarti aneddoti, barzellette, poesie, canzoni. C'è chi più ne ha più ne metta. E devo dire che è stato proprio un bel momento, perché non c'era più il palco e la platea. Cioè il palco era solamente uno spazio dove poter salire, ma era altro che tirata giù la quarta parete. Insomma, abbiamo distrutto proprio l'edificio. Praticamente l'opposto di quello che ti ha fatto un po' più conoscere al grande pubblico invece. Perché tu nasci dalla televisione, tra parentesi, con una serie che era il massimo della quarta parete. C'era proprio lì, c'era solo quella. C'era solo quella, c'era proprio una parete, un video, una macchinetta del caffè che ci separavano. Sì, sì. È stato un bel momento, Camera Caffè, devo dire che è stata... Oddio, mandano ancora le repliche oggi. Ah sì, sì, no, a qualsiasi ora di giorno e la notte lo trovo. Ah, sono 21 anni, eh. Mamma, come sono vecchio anch'io. Eh, beh, ragazzi, sono 21 anni fa. 21 anni fa, amai. Sì, la prima puntata nel 2003. Wow. Il teatro però rimane sempre qualcosa di diverso. Perché lo vedo, tutti quelli che di voi passano di qua, che hanno fatto esperienze televisive, grandi o piccole che siano, però dicono il teatro è tutta un'altra cosa. Che cos'è che vi dà che... Ma è proprio la condivisione. Io sono analogica, non sono tecnologica, sono tecnolesa. Ah, sono tecnolesa anche tu. Sono tanti qua, tecnolesi. Diciamo la verità, cioè a far teatro non è che vai in giro per strada e ti riconoscono, ti salutano. A far TV basta fare una mezza stupidaggina e il giorno dopo tutti ti salutano. Certo. Non è quello quindi che si ricerca, spero. No, sinceramente no, nel senso che a me più che famosa... Ma guarda, non mi è mai interessato più di tanto. Non ti dico che non mi abbia fatto piacere, perché comunque ti riconoscono... Nonostante li chiamano tutti i patti? Tutti i patti, ancora oggi io mi giro e li saluto. Ah, ok, che carina. Ma pensano che io mi chiami Patrizia D'Imporzano, alcuni. Quindi io non li contraddico. Ha scoperto in questo momento che aveva un nome e un cognome, quindi la patti. Sì, Patrizia D'Imporzano. Sempre chiamata patti e basta. Però ti dico, ma mi ha dato veramente tantissimo, mi sono divertita tantissimo. E' stato anche un periodo di sofferenze, perché non sembra, ma sembravamo veramente dodici ore vestiti da personaggi, vai un po' fuori di testa. Però, a parte questo, io la televisione mi piace farla, assolutamente. Ma live, live, live sei lì tu con il pubblico. Cioè, è un rapporto d'amicizia che estauri ogni volta, insomma. Quindi io, boh, non lo so, non lo cambierai veramente per niente al mondo. Infatti anche un po' di anni fa ho fatto proprio questa scelta e poi è arrivato il Covid. Sempre scelte nel momento giusto. Esatto. Ma, invece, adesso sta andando molto questa roba della stand-up comedy. Sì. Come la vedi? Io la vedo benissimo. Come tu ci trovi dentro? Ma io faccio stand-up nel senso che poi io la chiamo monologo, però anche Paolo Rossi, che ha portato Lenny Bruce in Italia, un po' quello stile, un po' underground, un po' bohemian, un po' dallo calaccio, diciamo, è un po' quello con cui siamo nati tutti. Se hai un contenuto da condividere e sei monologhista, quello fai. Però diciamo che è un linguaggio utilizzato dai giovani che adesso si approcciano sul palco. A me piace perché mi piace la crudezza, mi piace anche la spontaneità, mi piace anche un po' la cattiveria e tutto. Non mi piace la gratuità. Quando fanno la battuta, fine a se stessa, volgare per volgare, o truce perché truce, ma fine a se stessa, quindi un arzigogolo senza un contenuto sotto, a me non dà nulla, ma è un parere personale. Sono però felice che ci sia un risciacquo, diciamo così, una nuova generazione che preme per emergere. Questo è bello. Tu dici che ti piace la cattiveria, ti piace così, però in realtà tutti i tuoi spettacoli non sei per niente. Ma un po' sì, nel senso che non è una cattiveria contro le persone, è una cattiveria contro i difetti delle persone, umani. Sì, sì, umani, sì. Non siamo al body shaming. Cosa che ho io per prima, hai capito? Cioè per prima cosa prendo in giro me stessa, poi... Dopodiché datemi un attimo di vanto per gli ospiti che portiamo qui, perché diciamo che hanno citato Lenny Bruce, sia Deborah Villa che Cocchi Ponzoni, che è quella che si dimentica la festa qua. Cocchi, sto sedendo sulla sede dove si è seduto Cocchi? Sì, sì, però non te la possiamo dare. No, mannaggia, neanche a pagare, dopo ci mettiamo d'accordo, faccio un'asta. Comunque, insomma, capite che... Anche questo però, il fatto di sapere, di conoscere quello che c'è stato prima di voi, quello che ha creato le basi di questo tipo di comicità, credo sia fondamentale. Molti forse adesso, io dico, lo vediamo anche nella Mosia così, iniziano, punto, senza avere però delle basi. Si riesce comunque ad arrivare? Guarda, allora, alcuni sono... Allora, a parte c'è sempre una commissione di tanti elementi. Allora, la prima cosa devi fare ridere, perché anche quelli che dicono devo farti pensare, va bene, anche io ti faccio pensare, ma ti faccio anche ridere, se no non mi chiamo comica, mi chiamo attore, mi chiamo attrice, insomma. Mi chiamo Piero Angelo. Esatto, detto questo. Due, devi avere originalità, devi avere talento, devi avere anche un po' la dedizione e la voglia di provare sempre pezzi nuovi. E' anche una costruzione che va fatta nel tempo. Infatti esistono tantissimi locali dove fanno gli open mic, piuttosto che i lab, piuttosto che chiamali come vuoi, dove questi ragazzi e ragazze vanno e si buttano a cimentare, cioè si cimentano con i loro pezzi nuovi. E questo l'abbiamo fatto anche noi, insomma, perché c'era lo Scaldasole, eravamo... Alla Barona siamo anche stati. Lo Scaldasole, sì, sì, sì. Ecco, io ero del gruppo dello Scaldasole, da dove siamo usciti, oltre a me, Gepi Cucciari, Katia e Valeria, I pali e Dispari, Gianmarco Pozzoli, Gianluca De Angelis, che ne so, Walter Leonardi, insomma, un sacco di gente. Il Scaldasole è stato veramente un laboratorio fondamentale per la nostra città. Assolutamente, è stato proprio un bellissimo momento. E anche noi facevamo la stessa cosa che facevano loro. Poi il gusto, le cose che portavamo sono diverse, ma viva la diversità. Chiaro. Se tutti facciamo stand-up, se tutti copiamo gli americani, anche lì, ecco, ci sono molti che sono tanto esterofili, ma le tue radici, il tuo know-how è qui. Tu puoi prendere la tecnica, se vuoi, dall'America, ma il contenuto deve essere sincero, cioè deve essere tuo, ti deve appartenere, capito cosa voglio dire. Poi se sei uno che ha quel filone intrinseco e va bene così, tipo Luttazzi, era fatto per quella roba lì, fermo restando che, insomma, ha preso anche a mani basse parecchie battute. Ecco, cosa che noi ancora non sapevamo. Volevo capire, ma se l'avessi idea, ecco sì, perché con Luttazzi, si è scoperto poi questa cosa. È stata un po' troppo, ha esagerato, diciamo. Raccattava su un po', ma non c'era ancora internet, non era così, quindi insomma, aveva il satellite a casa. Sicuramente, ma andava anche là a vedersi gli spettacoli, ma sicuramente è uno che però quella roba lì era proprio sua. La sapeva fare, come dire. Dopodiché, le radici, come dicevi, il territorio, sappi che noi, diciamo, una cosa che è successa poco fa, il Debo è arrivato un po' prima, è andata a prendersi un caffè qua vicino, sappi che ti chiederemo i diritti per quegli spunti che ti avrà dato sicuramente il bar in cui sei andata a prendere il caffè. Ah, ok, qua è della zona, dici. Sappiamo già che ti avrà dato grandi spunti. Elementi, diciamo. Ecco, sappiamo già che ti avrà dato grandi elementi. Quanto è importante, e come fare a trovare gli elementi, perché ad un punto io vado magari in un bar un po' così, quello che al massimo riesco, riesco incazzato perché magari il caffè non era il miglior caffè della giornata. Invece tu esci ricca di informazioni che poi magari molto probabilmente porterà nei tuoi spettacoli. Tu puoi riuscire dicendo, buono questo caffè, è meglio dell'acquaraggia, per esempio. Ecco, ecco. Se lo paragoni a qualcosa di peggio, già acquista una schia, capito? Ragazzi, questa è una lezione che mi ha dato. Una lezione di vita. Questa è lesson one per diventa comico in dieci lezioni con Deborah Villa. No, ecco, si può insegnare la comicità? Ma si può sì, ci sono due accademie qua in Italia, sicuramente. Adesso per esempio mi sto leggendo un libro di, oddio, per re, non so se si pronuncia così, un americano che ha lavorato per Bob Hop, piuttosto che che me l'ha consigliato il mio amico Nando Timoteo, che è un altro comico molto bravo, dove lui dice, sì, tu devi prendere un po' da tutto, devi osservare, devi scrivere, poi diventa anche un lavoro proprio di scrittura e di disciplina, ecco, che io per esempio non ho assolutamente, però si può imparare tutto, a scrivere e anche a recitare, si può mettere insieme le due cose, però devi avere voglia e deve essere anche un po' il tuo. Cioè io non potrei mai diventare un cardiochirurgo vascolare, nessuno, perché poi sembra che fare il comico sia una roba alla portata di tutti. Sì, sì, e anche no, però ecco, insomma, dipende un po' dalle qualità che hai tu. Ma allora, no, cardiovascolare forse no, un po' psicologa di tutti, per almeno un'oretta e mezza, diciamo, lo puoi diventare sul palco. Sì, sì, ridendo e scherzando, sì. Ridendo e scherzando, allora ricordaci, appunto siamo in chiusura, Deborah, ricordaci gli appuntamenti di questa sera e poi comunque anche nei prossimi giorni, noi ricordiamo che siamo in DAB su Tala Lombardia, ma comunque siamo anche sulla rete e quindi magari ci stai ascoltando anche da fuori regione e ci sono degli appuntamenti, giusto? Allora, sì, guarda, gli ultimi tre sono praticamente Legnano domani, poi c'è Mestre l'11 aprile e il 12 aprile invece a Trieste. Poi da ottobre si ricomincia. Ok, perché... Eh no, è la prima tranche questa. Perché poi basta, si chiude. Beh, sì, si chiude, sono in giro con altri spettacoli, quelle un po' più leggeri, non da teatro, diciamo, ecco. Cioè, c'è, 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 cosa che fai? No, beh, faccio un reso. Fai del burlesque, cosa fai? Non ho capito. Per l'amor di Dio. No, volevo capire, in che senso? No, no. Fai degli spettacoli pirotecnici? No, 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 però faccio un patchwork, è un jukebox praticamente, ho raccolto i pezzi, diciamo, più cavalli di battaglia dei miei spettacoli precedenti, faccio scegliere al pubblico, gli dico i titoli, chiaramente raccontati in maniera sempre divertente, loro scelgono la loro scaletta, quindi ogni sera lo spettacolo è diverso. Quindi proprio a richiesta, altro che a cappello, come si diceva una volta, che no, con questa richiesta, proprio... È molto divertente. Ah, è interessante, è interessante tutti i pezzi tuoi, non come faceva Luttazzi. No, assolutamente no, assolutamente no. Magari scritti con coautori, eh. Questo spettacolo l'ho scritto con Carlo Giuseppe Gavardini. Ah, ok, ok. Altro che arriva da... Da Camera Caffè. Da Camera Caffè con te, infatti. Però avete già avuto a che fare o vi siete conosciuti lì? Con Paolo Rossi, no, ci siamo conosciuti in una tournée con Paolo Rossi. Ok. Com'è una tournée con Paolo Rossi? Guarda, è veramente uno dei più bravi attori che io abbia mai visto. Switcha dal comico al drammatico in un secondo, è gigante sul palco, Paolo, è veramente gigante. Ecco. E allora direi che con questo possiamo chiudere il nostro appuntamento di oggi con Deborah Villa. Grazie mille, Deborah. Grazie a te, Fabio. Grazie. Questa sera non perdetevi lo spettacolo a Legnano e comunque poi seguitela. Domani, sì, scusate. Domani l'8, l'8 marzo. Secondo me abbiamo già detto tipo stasera quattro volte, in realtà è domani sera. Ah, è domani? Ah, ho sbagliato. Domani è 8 marzo. 8 marzo, mamma mia. Rebo, una cosa dovevo fare, una cosa dovevo fare e sono uscita a farla male, vabbè. È così che va. Comunque no, domani sera a Legnano lo spettacolo di Deborah Villa. Comunque cercatela, ci sono i social, c'è i social. C'ho il link in bio, c'ho il link in bio, ragazzi. Ho scoperto così. La cosa del link in bio è bellissimo, è biodegradabile, sì, è così, eh. Infatti, va bene, comunque, c'è anche i social, cosa volete di più? C'è anche il TikTok? C'ho anche il TikTok. No, vabbè, allora, se avanti anni luce Deborah, se avanti anni luce. Deborah Villa domani sera a Legnano con il suo spettacolo Tilt, esaurimento globale. Grazie mille Deborah. Ciao. E qui un pezzettone di quelli Michael Jackson con Thriller.